Il contenuto di questo messaggio è confidenziale, ed esprime l'opinione collettiva di tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Tutti gli attivisti sono ispirati da lealtà e onestà intellettuale, ed il desiderio di tutti gli attivisti è che la lealtà e l'onestà intellettuale ispiri i nostri cittadini eletti, che ci rappresentano nelle istituzioni. Gesù disse chiaramente che il tradimento è nell'indole dell'uomo, nella migliore delle ipotesi, uno su dodici è traditore e questo traditore verrà per sempre ricordato come Giuda traditore e l'infania sarà la sua peggior condanna. Il Movimento 5 Stelle si ispira ai principi di democrazia diretta, questo significa che gli elettori nominano dei propri rappresentanti i quali si obbligano moralmente a divenire degli esecutori materiali del proprio elettorato. Il sistema di democrazia diretta non da margine agli inciuci, i cittadini eletti rinunciano ad azioni personali, favorendo invece azioni collettive prese in concertazione con il proprio elettorato. La democrazia diretta è l'unica che risulti essere in sintonia con l'articolo 1 della Costituzione il quale sancisce che il popolo è sovrano. L'elettorato del Movimento 5 Stelle ribadisce la propria indignazione nei confronti dei dissidenti, ai quali viene ufficialmente chiesto di dimettersi a favore di altri attivisti che fremono dal desiderio di poter apportare il proprio servizio a favore della collettività. La Costituzione sancisce che i parlamentari non hanno alcun vincolo di mandato, quindi una volta che questi non rappresentino più il proprio elettorato, si debbono dimettere non essendo più vincolati a rimanere. Tutto il vostro elettorato è pronto a mettervi all'agonia mediatica nel caso che per venialità o per ambizioni personali prenderete la decisione di rimanere incollati al vostro cadreghino dentro le istituzioni. Non avete più alcun vincolo di mandato, fate una scelta saggia e dimettetevi, eviterete di essere ricordati come dei luridi malfattori senza peraltro aver ottenuto nulla perché alla prossima tornata elettorale la vostra carriera sarà stroncata. Distruggete questo messaggio. Ciao!